Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, con pronto soccorso biblico, benvenuto Giovanni, come stai? Sto benissimo, ben conservato al fresco come su gelati. Infatti l'Etna è imbiancata ed è bello vederla, ma anche quest'aria fresca, è piacevole però dopo un po' insomma ci si deve coprire. Allora Giovanni abbiamo ricevuto una richiesta da un'ascoltatrice che ci segue dalla Germania, Gesua, che salutiamo. Ci chiedeva di poter capire meglio, per spiegarlo perché lei lo deve spiegare a sua volta, un testo del libro degli Atti, Atti 10 da 9 a 16. Allora do a te subito la parola perché tu possa introdurlo e cercare di capire cosa dice il testo e come interpretarlo. Sì, allora molto sinteticamente partiamo dal problema. La Chiesa Cristiana Adventista che questa radio rappresenta crede che Gesù sia colui che ha creato il mondo e ha creato ogni cosa bella e buona e desidera che noi viviamo bene. Per questo ci ha dato delle leggi. Alcune di queste leggi sono quelle che riguardano l'alimentazione, le cosiddette leggi sui cibi puri e impuri, tenendo conto sullo sfondo che la legge ideale è quella del vegetarianesimo, cioè di un mondo in cui non c'è violenza, non c'è morte, non c'è sopraffazione e quindi non c'è uccisione di animali. Allora questa nostra posizione che ci porta ad osservare ancora oggi come cristiani queste regole, non è seguita da tutti gli altri cristiani se non piccole minoranze. Bisogna quindi giustificare il perché uno le considera ancora valide queste norme e gli altri debbono giustificare il perché non le considerano più valide. Uno dei testi della discussione è questo capitolo 10 del Libro degli Atte che la nostra amica ascoltatrice ci propone di considerare. E il testo usato maggiormente per dire che quelle leggi non servono più per noi cristiani. Il che solleverebbe un problema, ma perché se Dio ha dato quelle leggi perché ci voleva bene, ora che conosciamo Cristo, queste leggi non sono più valide? Forse che con Cristo Dio ci voglia meno bene? Ecco, a noi non torna questo discorso, ma esaminiamo il testo. Allora, il problema base è che l'Apostolo Pietro vede una visione in cui scende dal cielo un grande lenzuolo, una grande tovaglia, sopra la quale si trovano ogni tipo di animali, pure e impure, retteli, uccelli, quadrupedi, e una voce dal cielo, quindi una voce che viene da Dio, dice a Pietro, Pietro ammazza e mangia. E Pietro, quasi scandalizzato da questa proposta celeste che vede quasi come una tentazione, una prova della sua fedeltà, dice, Signore, mai io mangerò queste cose perché io non ho mai mangiato nulla di impuro o di contaminato. a che la voce dal cielo dice non considerare impuro quello che io ho santificato, quello che io ho purificato. Ecco, da questo dialogo tra Pietro e l'interlocutore celeste molti cristiani traggono l'idea che il Dio abbia abolito quelle norme dell'Antico Testamento e che ci consenta di mangiare tutto, cani, topi, lucertole, serpentivari, scarafaggi. Ecco, scusate se io non sto citando il maiale e la lepre, no? Perché quelle fanno parte della nostra cultura. Ma se veramente quello fosse il senso di quella visione, allora dovremmo anche mangiare queste cose che io ho detto, complesse le formiche, i vermi, insomma, tutto quanto. Ma per non perderci in troppe chiacchiere, accessorie, allora proviamo a vedere per quale motivo per noi questa visione non ha nulla a che fare con ciò che dobbiamo mangiare. C'è sempre un insegnamento, una norma che io propongo ai nostri amici che ci seguono ed è quella di non soffermarsi alle parole ma di guardare il loro contesto e scoprire le loro intenzioni. Allora, questo capitolo non ha nulla a che fare con quello che noi dobbiamo mangiare a tavola. L'argomento è molto più importante. Riguarda la salvezza dell'umanità che al tempo dell'Apostolo Pietro nella mente degli ebrei era divisa in due gruppi. C'erano gli ebrei che erano puri e degni di salvezza e c'erano i pagani che erano impuri e condannati alla perdizione tranne che non diventassero ebrei. Quindi per Pietro, per l'Apostolo Pietro anche se aveva conosciuto Gesù Cristo ancora i pagani erano considerati come delle bestie impure da evitare. Ma a questo problema dell'Apostolo Pietro che era il problema ancora della Chiesa cristiana che stava nascendo proprio in quegli anni che si rivolge a Dio. Allora guardiamo il contesto. La storia comincia non al versetto 9 come ci chiede la nostra ascoltatrice ma comincia al versetto 1 che ci racconta di come in una certa città c'era un uomo che era un centurione romano quindi era un pagano che tuttavia entrando in contatto con la cultura con la religiosità, con la spiritualità ebraica aveva imparato a credere nel Dio di Israele tuttavia era un pagano. Questo pagano era buono, era generoso, era gentile e Dio ascolta le sue preghiere vede le sue azioni e allora gli manda un sogno in cui gli dice io ho qualcosa da farti conoscere in fondo gli dice io ti voglio bene e voglio che tu mi conosca allora manda qualcuno in una certa città a Ioppe dove c'è e gli dà l'indirizzo c'è un uomo che si chiama Simon Pietro fallo chiamare e lui ti spiegherà quello che io ti voglio dire e che cosa ti chiedo di fare e immediatamente questo centurione romano probabilmente un italiano non lo sappiamo che si chiamava Cornelio manda degli uomini a cercare Simone a questo punto la scena si sposta da Cornelio a Simone e al versetto 9 si dice che il giorno seguente mentre quelli cioè mentre i messaggeri di Cornelio erano in viaggio e si avvicinavano alla città quindi stavano per arrivare a casa di Simone Dio prepara Simone ad accoglierli perché altrimenti non li avrebbe accolti dice Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta che con il nostro orologio significa verso mezzogiorno quindi è l'ora di pranzo e il testo dice che aveva fame e desiderava prendere cibo ed è in questo momento in cui Dio prendendo scusa diciamo o prendendo spunto da questa voglia di Pietro di mangiare che gli fa vedere tutti quegli animali pure e impure gli dice bene ammazza e mangia hai fame ammazza e mangia e non tenere conto del fatto che sono puri o impuri perché io li ho purificati tutti Pietro come dicevo prima quasi si scandalizza si meraviglia dice signore ma tu mi hai insegnato di non farlo e poi il signore gli dice cioè io li ho purificati comunque eccetera eccetera appena la visione finisce il verso dice si ripete tre volte questa scena verso 17 mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse quella visione quindi cosa vuol dire questo che Pietro capendo Dio ed essendo una persona riflessiva comprende che quella visione deve avere un significato che va oltre l'apparenza che non era immangiare la questione era qualche cosa d'altro che lui non capiva ecco mentre si cercava di capire quale fosse il vero significato ecco che qualcuno bussa alla porta chi so chi apre e chi so sono proprio i messaggeri di Cornelio che gli raccontano quello che era successo e allora ancora una volta il Signore parla a Pietro e gli dice Pietro non ti fare scrupolo di andare con questi uomini perché sono io che te li mando vedi un pochino già Pietro comincia a capire il parallelismo tra gli animali che Dio ha purificato e l'apparizione di quegli uomini che sono dei pagani che lui considererebbe impure non gli aprirebbe neppure la porta figuriamoci ad andare in casa loro e Dio dice no io te li mando vai con tranquillità cioè non li considerare come degli animali impuri e questo è il senso del messaggio e Pietro quindi vincendo le resistenze di una vita superando una mentalità che aveva ereditato con la lascita si apre al fatto che Dio ami i pagani e che non li considera come dei serpenti velenosi che non li considera come dei maiali impuri che non sono dei cani da evitare ma che sono dei figli di Dio che Dio ama e di cui apprezza la ricerca della verità e il desiderio di fare del bene cosa che poi Pietro spiegherà a Cornelio perché alla fine qual è la conclusione della storia non è che Pietro arrivato in casa di Cornelio si mette a mangiare con loro conigli maiali serpenti e topi come dicevamo prima Pietro annuncia la meravigliosa grazia di Dio che è rivolta a tutti quanti gli uomini e difatti al verso 27 Pietro dice conversando con lui e trovate molte persone li riunite disse loro voi sapete come non sia lecito sto leggendo il verso 28 voi sapete come non sia lecito a un giudeo di avere relazione con Dio non gli dice che mi avete preparato da mangiare perché tanto io mangio tutto che Dio mi ha detto che posso mangiare tutto non è quello il senso della visione il senso della visione la sto spiegando lui voi sapete come ad un giudeo non sia lecito di avere relazione con uno straniero o di entrare in casa sua perché la casa dei pagani era considerata impura ma Dio mi ha mostrato dove me l'ha mostrato Dio dei pagani non ha minimamente parlato nella visione ma è a quella visione degli animali pure e impuri che Pietro sta facendo riferimento e in quella visione sugli animali che Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato perciò essendo stato chiamato sono venuto qui senza fare obiezioni è bella questa precisazione io avrei avuto mille obiezioni da fare per entrare a casa vostra ma Dio le ha distrutte tutte e mi ha detto di presentarmi a voi come dei fratelli come dei figli di Dio è un dramma che è una visione talmente grande che apre all'Evangelo in mondo intero sia poi usata per parlare di quello che dobbiamo mangiare e delle scuse per mangiare quello che ci pare e piace sono due argomenti completamente diversi dico Giovanni infatti è bello perché qui Pietro stesso dà la spiegazione dicendo Dio mi ha mostrato che non devo considerare impuro nessun uomo quindi non ci sono qui animali non si parla di alimentazione quindi questo è molto bello perché qui non siamo andati a capire cosa Pietro diceva Pietro lo dice chiaramente che non deve considerare impuri perché anche ai tempi di Gesù la Cananea era considerata come un cane o i Samaritani quindi c'era questa visione era molto chiara coloro che non erano comunque che non accettavano l'iddio di Israele che non entravano a far parte del popolo erano considerati dei pagani e degli impuri quindi è molto importante perché spesso Giovanni capita che questo testo come dici tu viene preso per un discorso di alimentazione ciò che bisogna e ciò che non bisogna mangiare qua non sta dicendo questo c'è anche Patrizia che ci saluta dice Dio ama i pagani bellissimo chiarimento poi c'è anche saluti da Heidi che ci ascolta da Mazzara del Vallo allora credo che diciamo è molto importante cosa possiamo aggiungere ancora io aggiungerei aggiungerei questo che vale sempre cioè non lasciamoci mai trascinare dalle nostre voglie perché se io voglio una cosa troverò tutte le giustificazioni fondate e infondate per sentirmi a posto facendola cerchiamo di comprendere la verità e la verità viene da Dio e ci è stata trasmessa attraverso la sua parola allora Dio è un Dio coerente Dio non è uno che cambia idea Dio porta avanti a volte con forme diverse ma porta avanti il suo progetto d'amore attraverso i tempi non vediamo Cristo come colui che va contro ciò che Cristo stesso nell'Antico Testamento aveva insegnato la parola di Dio è una parola unitaria con una evoluzione con una intensificazione della verità ma è sempre lo stesso filo c'è armonia in Dio e quando leggiamo un testo cerchiamo di comprenderlo nel suo contesto di comprendere le intenzioni e come pensiamo alla parabola delle dieci vergini dove si dice che al ritorno di Gesù cinque delle vergine cioè del popolo di Dio cinque saranno fatte entrare e cinque non saranno fatte entrare nelle nozze dell'agnello cosa vuol dire vuol dire che tra i cristiani saranno salvate solo il 50% e il 50% saranno perduti se noi usassimo solo le parole dovremmo arrivare a quelle conclusioni diremmo ma è chiaro che lo dice lì cinque e cinque però non dobbiamo dimenticare che si tratta di una parabola che il linguaggio deve essere visto come trasmettitore di un significato e il significato in quella parabola è quello di prepararci per il ritorno di Cristo perché non lo potremmo fare all'ultimo momento quando Cristo è già tornato cioè nella parola di Dio bisogna individuare lo scopo e anche questa esperienza sui cibi pure e impure di Pietro è una parabola è una meravigliosa parabola che mette il dito proprio in ciò che Dio aveva dato per amore ma che gli ebrei avevano trasformato in un motivo di orgoglio ecco questa quella visione di Pietro è una visione che spezza l'orgoglio umano e che apre all'ascolto degli altri e non riguarda più per noi oggi solo se dobbiamo amare i pagani o no ma riguarda il superamento di ogni pregiudizio ingiustificato verso chiunque cioè è un testo che ci invita a mantenere il cuore aperto verso l'altro a fare spazio nella nostra vita verso l'altro è un testo meraviglioso e come dicevo è un peccato che qualcuno lo usi solo come scusa per potesse sentire bene a mangiare la mortadella e il prosciutto ecco mi sembrano due mondi diversi in realtà se dovessimo essere letterali gli dice di mangiare tutto quindi servente e qualsiasi cosa comunque volevo anche aggiungere una cosa e poi leggo una domanda a cui potremo rispondere nella prossima puntata praticamente dopo Pietro dovrà giustificarsi con diciamo gli anziani un po' della comunità primitiva e quando si giustificherà perché diranno tu sei andato dove non dovevi andare e lui dirà che è Dio che ha stabilito questo perché ha dato lo stesso dono che ha dato allora la Pentecosta e lo ha dato a Cornelio quindi lui ha capito che nessuno deve essere considerato impuro quindi c'è un'ulteriore spiegazione che darà Pietro alla Chiesa proprio per far comprendere qual è il vero messaggio allora c'è una domanda Giovanni io la rimanderei alla prossima settimana allora dice Patrizia ci chiede questo un attimo che lo metto anche in evidenza così lo legge anche tu quindi come considerare l'alimentazione vegetariana alla luce della parola di Dio una norma da rispettare ancora valida o un consiglio penso che sia molto interessante ecco la possiamo molto interessante sull'alimentazione ecco consiglio regola come la possiamo considerare allora io poi c'è anche Daniele che diceva anche la parabola del Rico e di Lazzaro è una parabola dove lì leggendo quella parabola qualcuno dice lì si sta parlando dell'anime immortale in realtà magari potremmo vederlo un'altra volta ecco anche lì è una parabola che vuole dire altro ai suoi diciamo ascoltatori uditori del tempo ok Giovanni allora possiamo dare questo appuntamento e la prossima settimana parleremo di questa domanda che ci viene posta sull'alimentazione qual è secondo la Bibbia l'alimentazione che Dio vorrebbe per i suoi figli sei d'accordo? grazie alla prossima alla prossima grazie mille alla prossima buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti